Fuori dai musei, con gli amici miei, si distruggerà la civiltà e le banalità. Su seguitemi, esibitevi, a Damodava, vincerà chi si distinguerà. Fuori dai musei, con gli amici miei, si distruggerà la civiltà e le banalità. Su seguitemi, esibitevi, a Damodava, vincerà chi si distinguerà. Vincerà chi si distinguerà. Per molti secoli, quei nobili, sono rimasti esposti sempre immobili. Con una voglia intensa di entrare nel bistro. Nuove letture con tecnologia. Ce li rivelano in dorata prigionia, tempi di convenzioni, di provincialità. Fuori dai musei, con gli amici miei, si distruggerà la civiltà e le banalità. Su seguitemi, esibitevi, a Damodava, vincerà chi si distinguerà. E si distinguerà. Tipità delle banalità. Computer, dimmi se ti muovo liberi. Con la gioconda corrono nei vicoli. tempi di mutamenti, nuove modernità. Fuori dai musei, nuovi amici miei, si distruggerà la civiltà e le banalità. Su seguitemi, esibitemi, a Damodava, vincerà chi si distinguerà. Grazie a tutti.